La Chiesa deve custodire il tesoro più prezioso dei cristiani, l'Eucaristia. Con la presentazione del libro del professore Giuseppe Falanga, Fai vivere i santifichi l'universo, ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce, si è chiusa la tre giorni di eventi e celebrazioni in occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. Le finalità del suo ultimo libro sono quelle di far conoscere l'Eucaristia attraverso due dimensioni importanti, cioè la presenza di Gesù con il suo corpo e il suo sangue in mezzo a noi e poi il fatto che la creazione è anch'essa un dono e una presenza di Dio. E quindi la Chiesa deve custodire il tesoro più prezioso dei cristiani, come diceva San Vincenzo. L'Eucaristia è il tesoro infinito dei cristiani, ma la Chiesa e la società devono custodire parimenti la creazione. Quanto è importante la figura di Gesù per i giovani? Gesù era giovane, era un giovane. Noi pensiamo a Gesù per quello che è oggi, alla iconografia, ai quadri, a quello che la tradizione dell'arte ci ha tramandato certamente in questi secoli, ma innanzitutto dobbiamo ricordare che Gesù era giovane, ha iniziato la sua attività di predicazione all'incirca prima dei trent'anni ed è morto intorno ai trent'anni. Nessuno meglio di Gesù può parlare ai suoi coetanei. E poi un altro aspetto di Gesù è importante, la sua contemporaneità. Lui non è lontano, né nel tempo né nello spazio, perché attraverso la sua parola è possibile far conoscere Gesù ai giovani. E grazie a Dio ci stanno sempre più sacerdoti. Penso per esempio al nostro ospite di stasera, Padre Enzo Fortunato, che ha fatto di questo la sua missione principale. Quindi Gesù è giovane e parla un linguaggio fresco, semplice. Quello del Vangelo non è un linguaggio artefatto. Cosa ha lasciato ai turresi San Vincenzo Romano? Essere cristiani a Torre del Greco o semplicemente essere cittadini a Torre del Greco, non credenti, è molto più semplice che altrove. Basta seguire l'insegnamento di San Vincenzo. Per i cristiani diciamo che lui ci ha dato due binari, la parola di Dio e l'Eucaristia. Ma per quelli che non credono, San Vincenzo Romano resta il ricostruttore morale, sociale, oserei dire tra virgolette politico di questa città. Noi siamo figli di Vincenzo Romano, non dobbiamo fare altro che seguire le sue orme, perché questo significa essere santi, indicare un cammino che porta, come dicevamo prima, a Gesù. Puntiamo all'essenzialità e a fare l'ordinario in modo straordinario. Alla presentazione è intervenuto Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Padre Enzo Fortunato, quanto è importante l'esempio di San Vincenzo Romano? Nei diversi ambiti della vita, ognuno di noi è chiamato a fare bene il bene. E poi se questo bene viene fatto con passione, viene fatto soprattutto con paternità, io credo che rappresenta una rivoluzione. Quanto è importante l'esempio della povertà? La povertà, oggi siamo un po' tutti poveri. E io non me la sento di dire alle persone, siate poveri, dico siamo essenziali. C'è un bellissimo fioretto nella vita di San Francesco che fa comprendere la bellezza della povertà e dell'essenzialità. E cioè che i frati si trovavano in un fiume e lo riescono ad ottrepassare, perché c'è una piena solo quelli che non erano appesantiti dai pesi, dai pesi delle ricchezze, dai pesi delle cose della vita. E allora credo che ci possiamo arricchire di messaggi forti, quelli non appesantiscono. Un messaggio ai giovani in questo momento di distanziamento? Io so che voi siete più capaci di noi adulti. Io so che voi siete luci da accendere. Io so benissimo che a volte noi cerchiamo di indottrinarvi, di riempirvi come delle bottiglie che vanno messo il più possibile cose dentro. Invece no, è tutto il contrario. Sono loro che sanno darci qualcosa di lucente, di bello. E quindi sono convinti che ci aiuteranno a stare attenti. Come possiamo fare bene il bene? Lo possiamo fare facendo l'ordinario in modo straordinario. Grazie. 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 Grazie.